Fuori signori c'è Zaccardo, c'è anche Locatelli e Mazzone, chiama il 4-4-1 ma chiama soprattutto l'assist di Nakata per Tare, il primo gol del 2-1, il primo gol in rosso-blu per Tare, chissà, forse anche l'ultimo, vedremo gli sviluppi del mercato di gennaio, intanto è la quinta sconfitta degli ultimi sei incontri per il Lecce, il Bologna accoglie il suo primo successo di trasferta e vince dopo 13 anni a Lecce, e compiendo un bel balzo in classifica.